Buonasera da Marco Capulli e bentrovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo con la cronaca. Proseguono senza sosta le truffe agli anziani. La poststrada di Arezzo ha beccato diversi malviventi in tre distinte operazioni nelle ultime due settimane. Chiara Sadotti. Orecchini, anelli, spille e antiche monete. Monili in oro dal valore di oltre 20.000 euro, ma anche denaro contante, frutto di truffe ad anziani consumate in varie località del nord e centro Italia. A recuperarli la poststrada di Battifolle, che nel corso degli ultimi 15 giorni ha portato a termine tre operazioni. Nel primo caso è la truffa in provincia di Cuneo, dove un uomo e una donna italiani poco più che ventenni erano riusciti a raggirare una signora di 75 anni. Il malloppo, preziosi denaro, erano stati ritrovati nascosti all'interno del raggiseno della truffatrice. Il secondo episodio è invece in provincia di La Spezia. Anche stavolta i truffatori, due uomini italiani di 30 e 20 anni, erano riusciti a farsi consegnare 6.000 euro da un ottantenne, trovati e occultati negli slip di uno dei due malfattori. In entrambi i casi, l'area furtiva è stata sequestrata e riconsegnata ai proprietari. Le quattro persone sono state invece denunciate. L'ultima operazione è ieri pomeriggio, quando la poststrada ha beccato due truffatori italiani di 40 e 20 anni, che avevano appena messo a segno un colpo a Firenze, dove avevano raggirato una donna di 59 anni. I due sono stati arrestati. Il bottino, denaro, monete preziose, gioielli in oro, è stato invece sequestrato e riconsegnato alla legittima proprietaria. Condannato l'autore dell'incendio di quattro anni fa della palazzina Calcit antistante all'ospedale San Donato di Arezzo. Si tratta di un quarantenne senza fissa dimora e nulla tenente. Chiara Sadotti. Era la notte del 16 aprile 2020, quando un rogo devastò la sala di emodinamica della palazzina Calcit, un incendio doloso nel quale andò distrutto anche l'angiografo. A distanza di sette mani, il responsabile fu individuato ed adesso, per il piromane, arriva alla stangata. È stato condannato a quattro anni e mezzo e al ristarcimento di un milione di euro a favore dell'ASL. Ad individuare l'autore del rogo fu la squadra mobile della questura di Arezzo, un quarantenne originario della Sicilia senza fissa dimora. Senza alcun motivo appiccò il fuoco alla struttura. Per entrare forzò la serratura di una finestra e ruppe il vetro. Il tutto fu immortalato dalle telecamere di videosorveglianza. Non solo, il quarantenne bruciò anche un'auto sempre al pionda. È stato protagonista anche di un atto incendiario in carcere. Proprio per questo episodio è stato riconosciuto incapace di intendere volere. La sentenza prevede anche la misura di sicurezza per cinque anni in una remsa. Il legale difensore ha già annunciato ricorso in appello. Continuano gli incontri a causa della protesta dei lavoratori che ricorrono al treno per spostarsi ogni giorno, lamentando numerosi disservizi del servizio ferroviario tra Arezzo e Firenze, come gli innumerevoli ritardi e cancellazioni di convogli che percorrono la tratta della linea lenta. Il Comitato dei Pendolari e Sindaci del Valdarno non sono affatto soddisfatto sull'esito inconsistente degli incontri, specie con quelli con RFI e Trenitalia. Sentiamo. Un incontro meramente interlocutorio, quello che si è svolto al tavolo istituzionale sulle criticità della linea ferroviaria lenta Firenze-Arezzo che ha visto la presenza dei sindaci, dell'assessore regionale Stefano Baccelli e dei referenti di Trenitalia e RFI. Un incontro, secondo i Pendolari, che è stato un nulla di fatto. Le risposte non ci sono, praticamente si sta analizzando, monitorando la situazione da parte di RFI però ancora le proposte concrete non ci sono, per cui continueremo con i disagi ancora per chissà quanto tempo. Ci hanno promesso che fra una ventina di giorni ci dovremo rivedere per fare un po' in punto la situazione con delle cose più concrete, speriamo bene. Nessuna soluzione sul tavolo che possa ovviare ad oggi agli inchini che i treni della linea lenta devono osservare nei confronti dell'alta velocità, che poi determinano ritardi e cancellazioni. È stata costituita una task force che dovrà studiare e monitorare soprattutto il rapporto tra alta velocità e treni della linea lenta, ma ancora è veramente poco. Vi diamo veramente un intervento forte rispetto ai cosiddetti inchini nei riguardi i treni dell'alta velocità, soprattutto nella tutela delle fasce dei pendolari come scritto direttamente e molto chiaramente nel PIR. Ci riaggiorneremo tra 15-20 giorni, questo è stato l'impegno che si è preso dall'assessore Baccelli per cui questa cabina di regia periodicamente controllerà che gli interventi e le soluzioni che RFI e Trenitalia stanno mettendo insieme per questa nostra linea lenta vengono veramente realizzate. Quindi noi ci aspettiamo al prossimo incontro che arrivino delle soluzioni e non un'altra volta un incontro interlocutore. Tutto aggiornato ad una ventina di giorni, il tavolo tornerà a riunirsi alla fine di marzo. Abbiamo chiesto quindi delle risposte più puntuali, è stato preso un impegno di revisionare alcuni orari di alcuni treni, ma il tavolo è stato riaggiornato di fatto tra 15 giorni perché queste risposte più puntuali sono necessarie e quindi attendiamo quello che arriverà tra alcuni giorni proprio perché è inaccettabile la situazione a cui sono sottoposti i nostri cittadini. Ed oltre a ciò che abbiamo già sentito nel servizio, il Comitato Pendolari di Arezzo ha diramato una nota che leggiamo integralmente in cui esprime preoccupazione per l'assenza del Comune di Arezzo alla cabina di regia organizzata dalla Regione a cui hanno partecipato tutti i sindaci dei comuni del Valdarno, Montevarchi, San Giovanni e Figline. Com'è possibile che il Comune capoluogo di provincia sia stato escluso oppure è stato invitato e ha ritenuto di non dover partecipare? Cosa che sarebbe ancora più preoccupante. Non ha senso che il gestore fornisca dati medi sulla puntualità. È ovvio che i treni siano in orario fuori dagli orari di punta dei pendolari. Il Comitato di Arezzo si unisce alla richiesta della Regione e dei colleghi del Valdarno per cui il gestore debba fornire i dati puntuali sui ritardi durante gli orari dei pendolari. si auspica che il prossimo incontro del 26 marzo sia allargato al Comune di Arezzo e al Comitato Pendolari di Arezzo. La prossima mese di maggio scatta per i turisti e per le strutture ricettive una stangata per il raddoppio dell'importo della tassa di soggiorno nel Comune di Arezzo. Chiara Sadotti. È stata approvata la nuova tassa di soggiorno nel Comune di Arezzo. Oltre i 40 euro per il pernottamento la tassa passa da 1,5 euro a 3. Di fatto raddoppia. Poi si modula in base al prezzo delle strutture e raggiunge un massimo di 5 euro a notte per persona. Per pernottamenti che vanno oltre i 40 euro e fino ai 400 sarà dunque 3 euro. Passerà invece a 5 per un pernottamento che abbia un costo superiore ai 400 euro. È poi prevista una liquota particolare di un euro e mezzo a testa a notte per i campeggi, indipendentemente dalle tariffe ad essi applicate. Le nuove tariffe entreranno in vigore il 1 maggio 2024. Si prevede un gettito annuale di circa un milione di euro. Denaro che sarà destinato al finanziamento di interventi legati al turismo, alla manutenzione, alla fruizione e al recupero dei beni culturali, ma anche, e questa è una novità, ai costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che sarà incrementato nei momenti di maggior afflusso turistico. In particolare pensiamo che una parte dell'import potrebbe essere destinata per servizi accessori di raccolta, in particolare dei rifiuti, nei periodi in cui la presenza turistica oggettivamente crea anche degli servizi per i cittadini in quanto i turisti abitualmente sporcano e fanno molti rifiuti. L'ente anche pensa di iniziare una campagna oltre che di sensibilizzazione è anche di repressione e dell'evasione e soprattutto per individuare tutte le attività che sono sempre più numerose non dichiarate, quindi situazioni di locazioni brevi e quant'altro che non vengono dichiarate, quindi oltre che evadere l'imposta di soggiorno fanno anche un danno significativo agli altri operatori economici. La doppiare la tassa di soggiorno a stagione turistica avviata senza alcuna concertazione a avviso agli operatori del settore è contro ogni regola di buonsenso. Troviamo inopportuno l'aumento, il metodo e soprattutto la tempistica con cui il Comune di Rezzo ha preso una decisione simile. Così si esprimono su questo argomento confcommercio e confesercenti. Sentiamo. Ci siamo sentiti di prendere una posizione assolutamente contraria non tanto nel merito della necessità di prevedere un aumento ma dell'importo perché comunque si parla di un raddoppio e poi della tempistica. Non c'è stata nessuna concertazione, c'è stato comunicato e quindi il metodo sicuramente ci ha lasciato decisamente perplessi. È un distanzo congiunto quello delle associazioni a retine di categoria per l'aumento, anzi raddoppio, della tassa di soggiorno a stagione turistica avviata. La tassa di soggiorno ad Arezzo è stata molto ben utilizzata se sono visti i risultati, quindi da questo punto di vista Arezzo è un esempio virtuoso rispetto ad altre parti d'Italia però un aumento così repentino. Può mettere in crisi tante strutture soprattutto perché entrerà in vigore il primo di maggio oggi è il 14 di marzo quindi è veramente una decisione presa estremamente a ridosso dell'entrata in vigore. Associazioni ed operatori temono così il rischio di un effetto boomerang. L'occupazione delle stanze non è dovuta solo a certi periodi di maggior afflusso dove magari si cerca comunque di stare ad Arezzo, eccetera. Un'attività turistica lavora tutto l'anno, lavora 12 mesi e in quei 12 mesi il lavoro è variegato. Può lavorare con imprese, può lavorare con lavoratori che vengono ad Arezzo per motivi di altro genere, non prettamente turistici, di vacanza. Quindi magari potrebbero tranquillamente scegliere anche il comune accanto che ha un'imposta più bassa e che quindi pesa meno nel bilancio della trasferta. Secondo le associazioni di categoria il comune di Arezzo avrebbe potuto anche esplorare altre strade. C'è una grossa evasione del dato statistico e quindi supponiamo che ci sia una grossa evasione anche del dato ovviamente del gettito d'imposta. Da un paio d'anni a questa parte una direttiva comunitaria ha previsto la possibilità di fare degli scambi di informazione fra il Ministero degli Interni e quindi il sistema alloggiato web per i tecnici laddove si denunciano il numero delle presenze e l'imposta di soggiorno. Sono comunque un dato orientativo per capire se c'è un'evasione oppure no. Si tratta di avere la volontà di farlo e di individuarle in maniera puntuale di non andare a pensare che se aumenta l'imposta come purtroppo però spesso capita in Italia a chi già le paga ma andando a cercarle da parte di chi non le versa magari anche andando a regolarizzare posizioni che attualmente non sono regolari. Cambiamo decisamente argomento torna sabato e domenica prossima la quarta edizione della fiera del disco e del fumetto patrocinata dal comune d'Arezzo e ideata dall'Associazione Culturale Fumetti ed Intorni. Sabato 16 dalle 10 alle 17 nel padiglione 6 di Arezzo Fiere sarà presente con i suoi lavori il disegnatore Marcello Mangiantini che in edicola esce con il famoso fumetto Zagor. Mangiantini incontrerà il pubblico e porterà delle copie dei suoi disegni che autograferà. Domenica 17 dalle 10 alle 17 oltre ai vari artisti Fabio Civitelli esporrà almeno 15 tavole dei suoi ultimi lavori i quali verranno messi in vendita. Oltre ai fumetti di collezione come Tex Zagor, Diabolic, Uomo Ragno ci saranno anche i manga, Pokémon, UGO, videogiochi, Dragon Ball e il mondo anime per il collezionismo in generale delle case editrici indipendenti. Oltre al fumetto verrà celebrato anche il disco in vinile e in CD. Qui si potrà acquistare e trovare anche qualche pezzo introvabile di pop, rock, metal, funky, reggae, soul e di tanti altri generi musicali. Uno show per Casa Tevenin brillante e coinvolgente con gli artisti illusionisti Denimagic per divertire e incuriosire grandi e piccini è il Festival della Magia Città di Arezzo che si svolgerà sabato 16 marzo al Teatro Pietro Aretino di Via Bicchieraia. Sentiamo. Uno spettacolo dinamico, autoironico e mai scontato che conta su una complicità private ed artistica che li rende unici nel loro genere. La famiglia magica dei Denimagic torna in scena con un doppio appuntamento di magia per Casa Tevenin. Sabato 16 marzo al Teatro Bicchieraia appuntamento alle ore 17 e alle ore 21 con il Festival della Magia Città di Arezzo per un pubblico di grandi e piccini. Uno spettacolo di magia adatta a tutti, va da zero a 99-100 anni. Veramente adatta a tutti e siamo soltanto noi, soltanto Denimagic. Mentre invece quando magari facciamo il festival chiediamo magari anche poi il supporto anche di altri illusionisti che ci vengono a riempire un palco come quello del Teatro Petrarca. Però per il Bicchieraia siamo noi. Un pomeriggio magico. Sì, sì. E una serata magica. Lo spettacolo sosterrà Casa Tevenin, l'istituto a retino che da oltre 150 anni accoglie donne, madri e minori in situazioni di difficoltà. Perché con Casa Tevenin è veramente tantissimo che collaboriamo e abbiamo girato vari teatri e è sempre bello collaborare con loro. Mi è capitato più di una volta, a fine spettacolo, che i bambini di Casa Tevenin sono venuti ad abbracciarmi e questo già mi fa commuovere perché è veramente bello. Veramente. Quindi speriamo di regalare di una serena Pasqua e che possano stare un pochino più sereni. E andiamo alla pagina sportiva parlando dell'Arezzo. La partita di domenica prossima Pineto Arezzo è stata affidata a Maria Marotta di Sapri in provincia di Salerno, classe 1984. È stata la prima donna ad arbitrare una gara di calcio maschile in Serie B. È successo il 10 maggio 2021 con Regina Frosinone in attività da quando aveva 15 anni. ha scalato le categorie e nel 2016 ha guadagnato la qualifica di arbitro internazionale. In questa stagione ha arbitrato Berben 5 volte nel girone B di Lega Pro, 4 nel girone A e 2 nel girone C. Nel nostro girone ha già arbitrato Cararese e Fermana, Perugia a Sestri Levante, Torres e Pontedera, Pescara, Olbia, Juventus, Next Gen, Arcona. 22 le ammunizioni combinate, oltre a due espulsioni. Nessun rigore però ha concesso. Quindi vedremo cosa succederà invece domenica prossima in Abruzzo. Terminiamo con una notizia di ciclismo perché è tutto pronto per l'ottava edizione dell'Ardita, la tradizionale ciclo storica dell'Alpe di Poti, che conferma anche per il 2024 il binomio con Arezzo Gravel, la ciclo turistica per Gravel, Mountain Bike e e-bike giunta alla seconda edizione e che lo scorso anno ha portato Arezzo a 300 appassionati da tutta Italia. Il taglio del nastro della manifestazione è previsto per venerdì 22 marzo alle ore 15. Inaugurerà anche la mostra di bici storiche e l'apertura della segreteria nell'atrio della provincia. Sabato 23 marzo ancora mostra di bici storiche, i negozi di ciclismo aretino in Piazza della Libertà. Da questa location alle 9 prenderà l'avvio con il CT della Nazionale di Ciclismo Daniele Bellnati, la seconda edizione di Arezzo Gravel alle 15, la prima edizione dell'Ardita a piedi, un trekking urbano di 5 km con registrazione gratuita in segreteria, mentre alle ore 17 l'incontro con i campioni del mondo di ciclismo senza freni curato da Mauro Messeri. Infine, domenica 24 marzo, nella cornice di Piazza Grande, preceduta dall'esibizione degli sbanditratori della giostra del Saracino, partirà alle 9 la ciclo storica dell'Alpe di Poti, tra i percorsi di gourmet concepito per tutti il classico e l'Ardita, con la sfida alla salita dedicata a Marco Pantani alle ore 9 e 45, per gli accompagnatori dei ciclisti è prevista l'Ardita e i monumenti, una visita alle bellezze storiche della città di Arezzo. E questa era l'ultima notizia per questa sera, grazie per averci seguito, a voi tutti buona serata con i programmi di Arezzo TV. Grazie a tutti.